Preparati con semplice carne di maiale, ma con carne umana. Nella stessa città viveva un uomo conosciuto per il suo coraggio. Questi, infischiandosi delle dicerie, andò a comprare gli shumari. Tuttavia, mentre stava rientrando a casa, ebbe uno strano presentimento. Si voltò indietro, ma non c'era nessuno. Tuttavia, chiedendosi se non fosse successo qualcosa alla scatola che conteneva gli shumari. L'abbriva. Lui vide che uno degli shumari era scomparso. Nonostante il suo coraggio, l'uomo rimase letteralmente terrorizzato dall'inquietante scoperta che aveva fatto. Poi pensò che dovesse trattarsi di una semplice dimenticanza da parte del negoziante. Però, volle verificare di aver visto bene, riaprì la scatola al successivo angolo di strada. E così scoprì che non mancava soltanto uno shumai, ma due. L'uomo si spaventò ancora di più e corse fino a casa. Poi, una volta lì, si costrinse a calmarsi e ritrovato il coraggio, aprì nuovamente quella scatola. Spaventoso! Altri tre shumai erano spariti in una volta sola! L'uomo è freddo al terrore l'aucio vivido con tutta la voce che aveva! Ricchiose un attimo il coperchio. E poi, piano piano, lentamente, lo riaprì. Spariti! Non era rimasto nessuno! Questo non è possibile! Tutti gli shumai sono scomparsi, ma che cosa sta succedendo? Dopo aver parlato così, l'uomo, anche se atterrito, vuole dare una seconda chiata alla scatola! Qual'ora? E scoprì che tutti gli shumai si erano attaccati al coperchio della scatola. Lo avete riconosciuto? Ebbene sì, alla regia del fumetto è qui con noi, Massimo D'Ambrosio! Grazie! Grazie a tutti, grazie! Doppiatore che ricorderete sicuramente in Fight Club, come voce di Edward Norton, fino ad arrivare a Kenny Guerriero e tanti altri ruori nel campo dell'animazione e non solo. Massimo, sei qui con noi oggi per farci conoscere più da vicino il mondo del doppiaggio, anche perché non tutti sanno il lavoro che c'è dietro, e avremo dunque il modo di saperne di più. Ma prima parlaci un po' di te, so che hai iniziato la tua carriera in teatro, cosa ti ha spinto a diventare un doppiatore e che difficoltà hai incontrato all'inizio? Allora mi alzo, se no sembro un nano vicino al testo. E intanto voglio... Mi ha fatto veramente piacere essere invitato qui perché ho incontrato tante persone con tanto entusiasmo ed è bellissimo vedere tanto entusiasmo intorno a queste cose, perché almeno sono delle cose sane che non fanno male a nessuno. È bellissimo. Io ringrazio voi perché mi avete trasmesso proprio tanto affetto, tanta attenzione sul lavoro che faccio e poi il lavoro che faccio è un lavoro che noi chiamiamo a Roma un lavoro da sorci, da topi. Noi stiamo sottoterra e facciamo un lavoro che non viene mai alla luce, nel senso che noi diamo solo voce a una cosa che poi viene vista e invece vedere insomma che la gente si rende conto che c'è tutto un lavoro dietro è benissimo. Vi ringrazio tanto. Dunque cosa ti ha spinto a diventare doppiatore e che difficoltà hai incontrato inizialmente? Allora sono onesto. Io ho cominciato all'età di nove anni. Non sono stato spinto nel senso che mio padre è un doppiatore, lo è tuttora, è un grande doppiatore e i suoi colleghi mi avevano visto fare una recita, hanno sentito la voce che avevo. Io avevo nove anni e mi hanno chiamato a fare dei bambini delle piccole parti. Quindi praticamente ho cominciato a nove anni facendolo come un gioco. Non è che ho avuto una spinta o una cosa. Per me era un gioco, mi sono divertito e andavo lì e giocavo a dare la voce ai bambini e a doppiare degli attori. Praticamente all'età di 18-20 anni mi sono ritrovato con un mestiere sulle spalle con un'esperienza di 10-12 anni di lavoro alle spalle e quindi essere riuscito ad acquisire una tecnica che per altre persone che cominciano magari a 20 anni è difficile riuscire ad avere subito. Bene, e dopo questa introduzione passiamo ad affrontare il tema doppiaggio. Iniziamo con un po' di storia. Il doppiaggio in Italia nasce a Roma negli anni 30, vero? E perché diviene tanto importante? Allora, diviene tanto importante perché praticamente quando sparì il cinema muto e cominciò ad arrivare il cinema americano i primi doppiaggi, voi dovete sapere, che venivano fatti negli Stati Uniti da oriundi italiani quindi che parlavano un italiano con un certo accetto si riesce a trovare ancora raramente qualche vecchio film dove voi sentirete questi attori americani doppiati in italiano che parlano tutti così cioè parlano come quelli che erano andati in America che conoscevano un po' l'italiano e dopodiché invece il lavoro si è spostato perché aumentando la massa di lavoro in film, al cinema il lavoro si è spostato in Italia e questa cosa è stata ripresa se voi vi ricordate i doppiaggi di staglio e olio che parlavano con questo accento perché prendevano in giro quel doppiaggio che veniva fatto negli anni 30-40 in America e quindi sia olio che staglio parlano proprio con questo accento americano una era Alberto Sordi che doppiava olio e lo faceva prendendo in giro quegli attori e lo faceva con questo accento americano dopodiché c'è stato il boom in Italia e tanti film che sono arrivati e quindi il lavoro è diventato molto più specializzato prima erano degli attori di teatro o di cinema che si gettavano nel doppiaggio provavano a fare di doppiato dopodiché è diventato un lavoro estremamente specializzato anche perché la tecnica è completamente diversa da quella del teatro o da quella del cinema o della televisione sono tre cose completamente diverse e dunque torniamo alle nostre clip per mostrarci la tua abilità iniziamo dal tuo attore preferito Edward Norton nel film Fight Club grazie a tutti 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 ascolti lei mi deve arrestare sono il capo di un'organizzazione terroristica responsabile di numerosi atti di vandalismo e di assalti in tutta la città nella zona metropolitana con qualche centinaio di euro. Sono già spuntate i siti in altri 5 o 6 grandi città. E' strettamente irregimentata l'organizzazione, con molte cellule capaci di operare in modo del tutto indipendente da un comando centrale. Ora vada alla casa, va bene, 15 e 37 di paper stampa. E' il nostro quartier generale. Sul retro, seppellito nel giardino, troverai il corpo di Robert Puzzi. Nello scantinato troverai delle vasche da bagno usate molto recentemente per fare in grandi quantità di microplice. Penso che il piano sia a far saltare in aria le sedi delle società di carte di credito e il palazzo della TRT. Perché questi edifici perché le società di carte di credito? Se si cancella la traccia di debiti allora torniamo tutti a zero. Si crea il caos totale. Dopo ho fatto il clip, passiamo a una nota serie televisiva, Chandler Bing da France. Grazie. 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 Signore, tu vai in paletto? Sì, certo, sono socio. Dovrei andarci tre volte a settimana, ma sono mancato le ultime 1200 volte. E allora che non ti ritiri? Vedete che sia così facile? Oppure che sia divertente farmi prelevare ogni mese 50 dollari dal mio conto? No, prima di tutto devi andare a parlare con loro. E dopo usano un sacco di strane battutine per confonderti. Poi tirano fuori Maria. E chi è Maria? No, signore. È una bambola inguanata in un mini costume che ti guarda come se fossi l'uomo dei suoi sogni. Che ti accompagni io e che ti tenga la mano? No, la preferisci affrontarla da sola. Vieni pure con me se vuoi. Torniamo al tema doppiaggio e parliamo un poco delle figure professionali che operano in questo settore. In particolare il dialoghista, il direttore di doppiaggio, l'assistente al doppiaggio, il sincronizzatore, il fonico, il mixatore. Tutti ruoli che non molti sanno esattamente cosa fanno. Vediamo di scoprirlo con te Massimo. Allora, quello che voi vedete al cinema è un lavoro che dura parecchio tempo. Nel senso che da quando arriva il prodotto in Italia per essere doppiato ci mettono le mani centinaia di persone. Ognuna è specializzata in una cosa particolare. Allora, quando arriva il prodotto viene mandato immediatamente in traduzione, viene deciso chi deve dirigere e chi deve fare i dialoghi. Dopo la traduzione c'è un adattatore che prende la traduzione e adatta la traduzione letterale dell'inglese ai battiti italiani, cercando di prendere quelle che noi chiamiamo le labiali, cioè i movimenti della bocca, le A, le O e cercare di dire esattamente lo stesso concetto in lingua italiana, però cercando di avvicinarsi il più possibile ai movimenti della bocca. È un lavoro da certosini che viene fatto a casa, davanti al computer, con il copione e per il tuo quadro. Dopodiché questo copione viene dato al direttore di doppiaggio il quale vede il film, legge il copione e fa la distribuzione delle voci, cioè cerca di trovare delle voci che si incollino alle facce degli attori o che abbiano una voce simile. Questo lavoro viene fatto ovviamente con un supervisor delle major delle televisioni. Dopodiché si fa in sala, viene fatta una preparazione del lavoro, l'assistente dei doppiaggi prende tutto il film, lo taglia a pezzettini e organizza il lavoro in maniera tale da chiamare gli attori per cercare di farli venire in alcuni turni o per fare le scene solo con l'altro con cui parla. Insomma è tutto un lavoro di organizzazione per cercare di ottimizzare il lavoro in sala. Dopodiché si va in sala dove c'è il direttore, l'assistente che si occuperà di controllare il sync e gli attori. A quel punto viene fatto il doppiaggio, quindi il direttore darà quelle che sono le indicazioni artistiche a tutti i doppiatori per dare la voce agli attori. Dopodiché questo film va al sincronizzatore, il quale sincronizza esattamente i movimenti della bocca, le lunghezze sui movimenti della bocca, quindi tutte le battute con il personale. Dopodiché questo film arriva in sala mixa dove c'è il fonico di mixa che metterà tutti gli effetti, effetterà le voci, sistemerà il suono, insomma darà praticamente quella che è il completamento di tutto quanto il lavoro che è stato fatto prima. Poi c'è un controllo con quello che ha comprato il film, quindi con il cliente che ha comprato il film e lo manda nelle sale cinematografiche e finalmente il lavoro arriva è completato e può andare in sala al genio. Questo ovviamente avviene in tempi che possono essere anche di due mesi, quindi c'è tutto un lavoro dietro abbastanza lungo, su alcuni lavori, su altri sono molto più brevi, dipende dal tipo di lavoro e dal budget. Purtroppo il lato economico entra sempre in tutti i lavori. e dunque torniamo alle nostre clip che abbiamo preparato e ora è il turno del calciatore dell'Italia dello spazio, Spike Spiegel da cavo e bimbo. Grazie. 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 Dove vai? ma soprattutto perché una volta mi diceste che il passato non era poi così importante belle parole per uno che non riesce a liberarsene guardami gli occhi il destro è artificiale quello vero l'ho perso in un incidente da allora con l'occhio sinistro registro il presente mentre con il destro ricordo il passato mi ha insegnato che non sempre ciò che è visibile corrisponde alla realtà tu che non hai mai parlato di te stesso mi vedi a fare certi discorsi proprio adesso volevo continuare a vivere un sogno dal quale non svegliarmi mai ma poi all'improvviso mi sono svegliato io ho riacquistato la memoria ma non ho trovato niente non ho una casa dove riposare nessuno ad aspettarmi ormai l'unica casa che ho è questa spavisca dove andare perché perché vuoi andare se sai che morirai io non vado a morire ma solo a provare a me stesso se sono realmente vivo oppure no e dopo Spice è il turno del reverendo Wolfwood da Trigern grazie acqua mi sento rinato finevo la vita non c'è di che cosa ci facevi là in mezzo al deserto? vedete la mia motocicletta si è guastata all'improvviso e ha 100 miglia da qui e non c'è stato verso di farla ripartire così hai dovuto camminare per 100 miglia? eh già è stata davvero dura non crede bene che siete stanco dopo esservi portato presso quella cosa gigantesca un buon venditore non abbandona mai i suoi articoli un venditore? sì sono un pastore non mi dire non aveste un po' di latte delle vostre pecore? ma no chi avete capito io milito nell'esercito dell'amore salvo picorelle smarrite piuttosto siete state voi a trovarmi vero? quindi sono in debito ah no da vistanti per primo malgrado fossimo estremamente distanti è stato questo tizio qui ah ma allora sei tu il mio salvatore è te che devo ringraziare il mio nome è Valentino della criniera Twin Jerks Sisypho Van Keef Boiler e vestione gamba di legno blue ice stradivari kaiser sauce il mio nome è Pier Tarantino Andreas Charton detto anche l'onore a schiamere a George Mossi Banovich Baldius per gli amici Zima e il possente sono lieto di conoscervi ah quanto siete simpatici mister Vash de Stampit ragazzina tu parli troppo cosa? intendi proprio dire quel Vash de Stampit se questo è il Vash autentico di sicuro è completamente diverso da come lo descrivono come si spiega questo fatto? nessuna spiegazione a volte nemmeno io ci credo ma pensa allora scusa tanto amico chiamami Wolfwood molto piacere applausi 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 torniamo a parlare di doppiaggio un'altra domanda come affrontate la questione dei differenti accenti che certi personaggi hanno nella lingua originale? allora si usano degli escamotaggi nel senso che per esempio molte volte quando c'è un accento particolare che posso dire di un americano del sud allora magari tendiamo pure noi a fare un accento di italiano del sud oppure se per esempio loro fanno delle cose con un gioco con l'inglese che è completamente diverso dall'americano noi cerchiamo di dare un'accezione nel dialogo un pochino più forbita con la ricerca di alcuni termini più particolari cioè bisogna sempre trovare qualcosa che possa rendere l'idea di quello che volevano dare gli americani o chi è che sia francesi inglesi o qualsiasi prodotto sia dobbiamo cercare di dare ridare questa sensazione quindi la stessa questione si pone quando si trova di fronte a modi di dire espressioni particolari che nella lingua originale come si fanno poi a renderli in italiano senza far intendere il senso infatti bisogna cambiare bisogna trovare un corrispettivo di italiano faccio l'esempio più la parte in inglese loro usano un'accezione quando piove forte dice piovono cari e cari e per noi sarebbe piove a catinelle ma noi perché esiste un corrispettivo italiano quindi ogni volta bisogna andare a cercare qualcosa che sia simile almeno come idea fa musica il dialogo questo ovviamente è compito dell'adattatore e compito del direttore del doppiato quali sono i personaggi più difficili da doppiare? assolutamente i cartoni animati perché intanto doppiare per esempio un attore lo dicevo prima parlavo con un ragazzo e gli spiegavo che doppiare un bravo attore è più facile un attore bravo per esempio Edward Norton ti dà tutti i suggerimenti e tutto quello che tu devi fare te lo dice John Louis con la sua recitazione un attore cane è difficile da doppiare perché qualcosa devi inventarti tu perché se lui è completamente un piatto qualcosa ti devi inventare tu per dargli un'anima e i cartoni animati hanno una difficoltà maggiore intanto perché essendo cartoni e non umani non respirano allora quando il disegnatore dice una battuta anche lunga di cinque righe per lui non è un problema perché quello la disegna il personaggio non respira noi dobbiamo riprendere fiato perché normalmente nella vita noi diciamo una ventina di parole una decina di parole e prendiamo fiato quindi molte volte noi ci troviamo in difficoltà proprio su delle battute lunghe per riuscire a coprire tutto quello che il personaggio dice e anche un'altra cosa che il cartone animato molte volte parla soprattutto per esempio sui manga o su alcune cose così parla con dei simboli ci sono dei simboli sul cartone che è diverso dall'espressione quindi anche per me soprattutto che faccio parte di un'altra generazione che ho 48 anni quindi certe cose non sono nate con me io sono cresciuto con braccio di ferro e con questi cartoni qui quindi certi messaggi che sul disegno ci sono e che per voi sono ovvi invece me li devono proprio spiegare perché non riesco non riesco ad accapparli subito quindi ci deve essere qualcuno che me li interpreta e dunque torniamo alle nostre clip questa volta è il turno del mitico Kenshiro dalla trilogia da Yonbu la trilogia scusate e stavo spiegando perché siccome lui leva nel momento in cui io parlo stavo spiegando che i versi di Kenshiro sono originali io non l'ho mai fatti sono stati ripresi dall'originale perché tanto è una voce completamente diversa da quella che è il personaggio che è molto quando fa watatatata sono molto acuti e invece la voce di Kenshiro è molto bassa addirittura quella che sentite qua non è effettivamente quella che avete sentito nei cartoni la mia voce veniva effettata cioè dopo il doppiaggio con il computer mi levavano tutte le frequenze alte per cercare di abbassare ancora di più il tono della voce quando vuoi sono stati ripresi che stai a cartare troppi pezzi scelto dai sembra proprio che tu utilizzi il mio stesso campo no questa è la divina scuola di Ocuto dovresti conoscerla molto bene divina scuola di Ocuto ma certo il pugno del fondatore di conseguenza tu dovresti esserne l'erede ora che ci penso il mio maestro mi ha detto che la tecnica del portale del nord deve essere tenuta segreta e che se tale regola non viene rispettata allora sopraggiunge il giudizio di Ocuto la divina scuola di Ocuto prevede l'isci soder anche se il tuo campo è una disciplina derivata devo comunque sigillarlo è il compito dell'erede per quanto mi riguarda simili regole possono andare all'inferno ho appreso la mia tecnica per diventare forte se non potessi più usare prima cosa potrei fare di te adesso ho sentito parlare di quelle cicatrici sul pezzo sembra che non sia solo una decorazione la mia tecnica di fine parola la mia decena parte di con l'arri Sono pugni molto pesanti, dimmi per quale ragione lo sono così tanto? E' tutta opera dell'ambizione, è proprio essa che dona la forza a un uomo. Gli occhi di costrui sono tristi, in essi non c'è soltanto ambizione, anche gli si fa carico della tristezza. Ma che succede? Perché e per quale motivo i miei pugni non sono efficaci su di lui? Non te ne sei reso conto? I tuoi movimenti perdono progressivamente fluidità. Cosa? La mia tecnica di difesa è nel contempo un attacco ai tuoi zugo. In definitiva incrociare i pugni con me significa morte per l'avversario. La tecnica del portale del nord è una forma di ascetismo asciuto e quindi assai differente da una tecnica assassina. Lo scontro si conclude qui. Grazie. Grazie. E dai combattimenti passiamo a tematiche più naturalistiche con zume da Wolverine. Grazie. 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 Lo so, però, rimanendo in questo posto sarei costretto a vivere continuando a nascondermi. Ho capito che non posso continuare a vivere con gli esseri umani. Non che questa storia mi interessi, ma ho cominciato a affidare un odore orrendo. Siamo circondati. Per quale motivo? Anche voi siete arrivati in questa città. Non era per via dell'odore di fiori? Ormai non c'è più un motivo per rimanere. L'odore di fiori non c'entra minimamente. A me si addice in questo posto. Hai ragione. Questa è una città sporca. Noi abbiamo ancora un conto in sospeso, vero? Abbiamo tempo da perdere. Sbaglio o il tuo orgoglio non ti permetteva di confondere il tuo aspetto e farti apparire come un essere umano? Potrai sapere ora tutto quello che è il tuo orgoglio dove è andato a venire? Nessuna parte. In me non è cambiato niente. Capisci veramente che cosa possa significare abbandonare questa città? Sì. Andrà incontro alla morte. Morire che prevale della vita non sono cose innaturali. È più innaturale vivere senza avere uno scopo. Un applauso. E torniamo alla nostra intervista con un'altra paio di domande. Il doppiatore può apportare dei cambiamenti ai dialoghi? Sì, sì perché ovviamente sei d'accordo con il direttore di doppiaggio perché magari ci sono delle battute o delle frasi che non sente naturali dire o non gli vengono bene. Per cui il dialogo può essere anche cambiato in sala durante il doppiaggio, ovviamente sempre con l'avvallo del direttore per prenderle magari le battute più proprie o che arrivano un pochino di più al pubblico. Più facile da dire anche in certi casi? Anche può essere sì, facile da dire, comunque non è che noi siamo macchine, adesso per esempio su una battuta sono scivolato o me l'avrebbero fatta rifare. Te la concediamo? Sì, siamo umani. Però ho detto, si può cercare comunque anche di migliorare magari dicendo proprio delle parole o delle frasi che sentiamo più nostre. Le innovazioni tecnologiche quanto hanno influito sull'evoluzione del doppiaggio? Tantissimo. Una volta si lavorava con la pellicola e infatti noi chiamiamo anello un pezzetto di film di 20-10 secondi perché una volta si prendeva quel pezzo di film, si chiudeva e andava nella macchina da presa come un anello che girava continuamente. Adesso col fatto che andiamo tutto col digitale, il lavoro si è velocizzato molto e anche per noi molte volte è più facile fare delle cose perché con dei programmi particolari che noi usiamo, con i computer, riusciamo a entrare all'interno di micropause, cosa che prima era impossibile fare. Quindi possiamo riuscire a dire, magari basta una piccola cesurina, una ripresa di fiato e riescono, i conici riescono ad entrare e evitare magari di rifarci una tirata di 10 righe, capito? Quindi più tecnologia vuol dire anche doppiaggi più precisi, più accurati? Più precisi tecnicamente però purtroppo col fatto che questo velocizza i tempi, magari molte volte anche meno curati perché la tecnologia di corto ovviamente va ad abbassare i prezzi e a produrre di più nell'arco di un turno di lavoro. Senti nel mio tempo possibile, quindi come accade in altri casi? Come in tutti i lavori, come in tutti i lavori. Va bene, torniamo alle nostre clip, questa volta è il turno del donnaiolo Gojo da Sayuki. Molto atteso dalle ragazze, a quanto pare. Grazie. 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 Ascolta signorinella, Sietto mi sembra poco appropriato, chiamami semmai fratellino. Sono stato chiaro? Bene, se hai capito la questione è sistemata. Ci vediamo? Aspetta un momento, Sietto! Ma se ti ho appena detto... Fratellino, ho visto bene! Ma tu guarda, prima Giuppetto Rose e adesso una bambina smarrita. Il mio oroscopo di oggi era così nero. Per favore, smettila di venirmi dietro! No, no, io ti seguirò finché non ti deciderai ad ascoltare quello che ho da dirti! Eh? Che cos'è? Uno scherzo? Con una bambina alle calcagna come faccio a rimorchiare? Aspetta! Aspetta! Non ti ho detto! Non ti ho detto! Vado a avvicinarti! Mi ho visto bene, Sietto! Aspetta, ti prego! Finalmente sono riuscito a liberarmi! Ciao, ciao! Ascolta un po', signorinella! Il mio nome non è signorinella, mi chiamo Meiko! Allora, ascolta un po', Meiko! Perché non te ne vai a fare i due passi altrove? Lo zietto! Ah, ma che pico! Il fratellino ha una faccenda molto importante da sbrigare! Faccenda si grata! Sostanzialmente consiste nel fare amicizia con una bella ragazza e poi portarmela a cena! Quindi se non ti dispiace... Parlando di un appuntamento! Eh? Sì, forse potremmo definirlo così! Vorrei dire che sarò io ad avere un appuntamento con te! Magari... Magari quando avrei compiuto qualche anno in più! Il dopo-goggio è il turno di Leorio da Hunter for Hunter! A presto! Sì, ma che spazio! Eh, quella! Angelo, sentendo! Ah, no, no! Ah, no, no! Si, no, si, eh... ... Ah, no! Ah! La femmina? Si, mi ha fatto anche una nuova risposta. Oh,i non mi ha fatto anche una nuova risposta. Ah, c'è che mi fermarlo. Ah, ha vinto ai sparati. No, non si fa mai in cinque ruoli. Si, mi fanno procurato prima della terza. Non ci vedi. Scusi, l'altra non mi ha detto che mi deve lavorare. No, no, mi ha fatto tutto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. senza bisogno di diventare un hunter. Grazie. Grazie. Qual è la tua motivazione, signor Leorio? La mia? Sei, sono stanco di tenerti d'occhio in cerca di una risposta che ti aggradi, quindi sarò sincero. I soldi! Come hunter ne guadagnerei una montagna! Con i soldi si può ottenere qualunque cosa, qualunque cosa si desideri. Una macchina del buon sa che, senza poi parlare delle donne! Ma te le non si può comprare con il denaro, Leorio? Eh? Con questo siamo a te. Forza, vieni fuori. Pare che la gentaglia della sporca tribù dei Curuta non conosca le buone maniere. Ritira immediatamente le parole che hai detto, Leorio. Signor Leorio, capito? E dopo Leorio, un'altra breve clip da uno dei suoi ultimi doppiaggi, penso, nel campo dell'animazione. Porco Rosso di Miyazaki, Ferrarin. Siate buoni, è un po' difficile questo pezzo. Rientra in quello che ti dicevo prima, i ritmi che vengono sistemati poi col computer perché è possibile prendere i piatti. Maggiore, sei stato promosso su Ferrarin. Che stupido, per quale ragione sei tornato? Io ero comunque un minato a chiantare. Stavolta le autorità non chiuderanno un occhio. Sei stato pedinato? Sei minato. A tuo carico è stato messo un mandato di cattura per non collaborazione antistatale, espatri, rimpatri o clandestini, idee degenerate, crimine, di essere un maiale di sfruttate, indolenze e disposizione d'oscenità. Cosa, idiota, ti pare ci sia da ridere? Parlano anche di confiscare il tuo idrocaccia. Certo, è proprio un film tremendo. Senti Marco, rientra in aeronautica. Ora come ora, con il nostro potere, in qualche modo faremo. Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale. L'epoca degli aviatori di ventura è finita. Non resta altro che volare sul barcaccio di sponsor triviali come lo Stato o la Nazione. Io non volo che con i miei proventi. Anche volando un maiale resta un maiale. Ti ringrazio Ferrari, salutando tutti quanti. E invece è proprio un bel film. Ma attenzione, quelli non hanno intenzione di portare in giudizio un maiale. Già. Oddio, camerata. Torniamo alle nostre domande sul tema. Facendo riferimento al campo dell'animazione, ti è risultato difficile inizialmente dobbiare personaggi animati? Come hai superato queste difficoltà? Già avevi in parte risposto prima, però se puoi approfondire una domanda. Guarda, intanto ci vuole parecchia tecnica, proprio per questi problemi del cartone animato che non respira. E poi devo dire che su questo mi hanno aiutato molto in sala di doppiaggio dei supervisori dei vari importatori di cartoni animati che mi davano appunto l'indirizzo alle indicazioni su ogni battuta, il senso. Perché effettivamente io molte volte non capivo le battute che dicevo. E invece per loro era tutto molto chiaro. Dice non ti preoccupare perché questo vuol dire così, così, così. Quindi dilla, dagli questo senso qui. Quindi in sala devo dire, ecco, è stato prezioso l'aiuto di queste persone che poi sono appassionate come voi, insomma, di questo tipo di prodotto. E tipo appunto, parlando, facendo riferimento agli animi giapponesi, ci sono spesso delle parole giapponesi che devono rimanere tali. Tu ovviamente non penso le conosca. Assolutamente no, quindi per me ripetevo un suono che sapevo più o meno il significato che aveva. Ho capito. Avevo pure te la luce. Per i giovani che vogliono intraprendere la carriera di doppiatore, quali tappe devono seguire e cosa gli puoi consigliare? Allora, questo è un lavoro che si può imparare sul campo e anche tramite delle scuole. Le scuole possono darti delle impostazioni, diciamo, ti possono indicare la via, dopodiché il lavoro viene fatto sul campo. Bisogna seguire, seguire e cominciare a fare delle piccole cose, cominciare a fare dei brusì, dei piccoli interventi, la battuta, la frase, la parola, eccetera, eccetera. Dopodiché piano piano, se si ha l'umiltà di continuare a imparare e di voler migliorare, secondo me tutti possono fare questo mestiere. Ma ci vuole tanta passione e tanta pazienza, perché è un lavoro che si impara con gli anni. Io sono 35 anni che lavoro, sono 49, quindi 48, sono 40 anni che lavoro e io ancora oggi continuo ad imparare delle cose, perché comunque c'è qualcuno che è sempre più bravo di me, dalle quali posso rubare io, posso rubare io delle intenzioni, delle intonazioni, dei modi di riciclare. E per concludere, vi proponiamo uno dei suoi ultimi doppiaggi, anche molto apprezzato dai fan, Peter Bellisci dal Trono di Spade. Argomenti un poco non proprio adatti ai bambini, vabbè, io l'ho detto, però le scene sono caste, è preciso, quindi chi conosce la serie. Una delle poche con questo personaggio, è stata difficile da trovare. Allora, la flon, è stata difficile da trovare. Allora, vai, vai. Allora, stai a fare un po' qua. 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 Bene. Sarà dura per loro sorridere e inchinarsi senza la testa. Uomo inizioso senza principi morali, lo scommetterei contro di te. Tu cosa avreste, amico mio, se stessi seduto la sola? Sono uno dei pochi uomini di questa città che non aspira a di venire lì. Sei uno dei pochi uomini della città che non è un uomo. Puoi fare di me. Quando ti castrarono, presero anche il membro oltre ai testicoli. Sono curioso. Passi molto tempo a fantasticare su cosa c'è tra i miei gambe. Io immagino una fessura, come le donne. Ho ragione. Cosing a essere nei pensieri di qualcuno. Deve essere strano per te, persino dopo tanti anni. Un uomo proveniente da altre terre, disprezzato da molti. Temuto da tutti. Sono temuto, abbro da sapersi. Tu passi notti insommi temendo la mia fassura. Ma tu vai avanti. Vado a sbiliare l'orecchio di un re e di quello successivo. Ti ammi io. E io ammiro te, l'orbenici. Il frutto di una casa migliore con la capacità di farsi amici, uomini potenti e anche doni. Capacità che torna utile, giusto? Dunque, eccoci qua. Con la nostra reciproca ammirazione e rispetto. Recitando il nostro ruolo. Al servizio di un uovo lì. Che regna, dono. Mio re. Mio re. Miei signori. Vogliamo cominciare? E questa era l'ultima clip che conclude la nostra intervista. Un grande applauso per Massimo D'Ambrosio. Bravo. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.